ehi sono il vostro anno lenta perma fischi ragazzi ma qui andrei a giocare la tombola qui vorrebbero fare anche anche una tombola dopo la cinquina fiche partita una partita senza storie io non devo giocare nel buttare anche niente da fare ma forse a parma a cominciare ancora a stare in una maniera diversa da costa a proposito col culo peschi lì culo per gli amici al continua a giocare la perma e le della juve a sarà il calcio moderne ma speriamo che sia un professionista perché quando giochiamo contro la juve al voglio proprio a vedere col file vabbè fa nienta al vedrosa la prossima volta dal vostro anno lenta perma